Grazie a tutti, la dottoressa Simoncini è una psichiatra, psichiatra, psichiatra e porta in un caso che ha seguito personale, più dovuto sul locale, in un certo caso che ha seguito personale, come sempre, con l'intervento. Grazie a tutti. Perché in effetti, per parlare di morte, per parlare del morire, forse il linguaggio mitico è molto più adeguato rispetto a quello razionale, chiamiamolo così, del dio cosciente e della maggiore, perché è un linguaggio per linguaggio più rispettoso e meno diuremico rispetto a quello del mondo. E allora, me lo dicono, che è un analista mondiale, che ha scritto il mito dell'analisi, aveva scritto questa frase, del discorso e del mito sono esattamente la stessa cosa, mito significa l'origine della vera parola, il mito organico, il discorso mitico è il vero discorso dell'anima. Ma poi risulta anche il sesso a parlare di anima e di psicologia, che cosa c'entra l'anima con la psicologia, e quindi poi la fila morte, che è un'esperienza d'anima. Dobbiamo partire dal fatto che, con l'avvento della psicologia scientifica, il rapporto che era stato millenario tra l'anima e la morte, e lo studio della psichia intesa come anima, si è espressato. E diventando la psicologia scienica di un certo territorio di funzioni, come la percezione, l'intelligenza, e le funzioni tra l'altro che hanno preso il campo nell'aspetto biologico. Ecco, con questa separazione, la psicologia in qualche modo lascia perdere il suo rapporto, l'abbandono del suo rapporto con l'anima, quindi quella psiche intesa nel senso più antico come anima. A questo punto parlare della morte non è possibile, perché la morte non è un evento scientifico. E in qualche modo, quindi, l'anima e la morte perdono la loro cittadinanza, aiuta a livello della psicologia. Questi argomenti, così si possono definire, verranno partati da altre branche, come la teologia, come la filosofia, però, come la teologia, la sociologia, sempre in termini generici, cioè della morte, non della mia morte, della tua morte. Quindi, non di senso e soggettivo. L'anima, per dire, l'anima, è scritta a partati della psicologia agli inizi del Novecento, e a questa cittadinanza, grazie a Freud, in cui, con la scoperta del mondo inconscio, l'immagine della morte non può più essere tenuta fuori da un'intratazione psicologica. E quindi, nel periodo del Novecento, viene un elemento importante, appunto, questa riammessione della morte, anche se, diciamo, che conforme all'inizio, era stata riammessa in termini di pulsione, e quindi sempre come un legame di oggi. Jung, che fu coemile di Freud e di parte allievo, si occupò, anche lui, di morire, ma soprattutto dell'atteggiamento della coscienza. e il suo pensiero è fondamentale, perché è fondamentale che ci sia un dialogo tra biocosciente e l'incoscia, l'immagine inconscia. E quindi è fondamentale l'atteggiamento della coscienza nei confronti del tema della morte. e ho fatto questa breve introduzione perché nella stanza d'analisi, quando si è in due, e si vanno a vedere le immagini che emergono nel percorso legate a morire, non è importante solo l'atteggiamento dell'analizza, ma di chi ha deciso di fare questo percorso, ma è importante anche l'atteggiamento dell'analizza e dell'interperta. Sono importanti anche le fantasie, le immagini, i simboli che nella mente, non solo in come esce anche quei teraperti, si muovono. E quindi nel caso che mi porterò, ovviamente anche nella mia mente, io ho fatto qualche cenno a queste immagini, poi il tempo non è tantissimo, vedremo se abbiamo voglia di approfondire qualcosa. La giovane donna di cui volevo parlarvi oggi mi ha sollecitato a riflettere sul mio atteggiamento personale nei confronti della morte. È una giovane donna di 32 anni e ha visitato un tumore al polimare, molto grave. La psicoterapia sarà piuttosto breve, perché è stata intervoluta dalla paziente. E poi vedremo come. Breve per quelli che possono essere i tempi analitici, reale intendo circa sei mesi, non una settimana a settimana, quindi con uno spazio, dal punto di vista rispetto analitico, ridotto una volta a settimana, per cinque sei mesi, in uno spazio limitato per un tema e un uso importante. Carlotta è una bella ragazza, alta e formulosa, molto sportiva e molto attenta al suo corpo. La sua richiesta nel momento in cui viene, entra in terapia comune, è quella di combattere insieme. Questo termine è combattere, l'invito a fermarlo nella vostra mente, perché sarà il tema di tutto il suo percorso, combattere insieme. Carlotta riferisce da subito un rapporto fusionale con la madre, condivide con la madre un'attività lavorativa, addirittura Carlotta ha rilevato questa attività, l'ampiata appena un anno prima dell'anno. E quindi, possiamo dire che la malattia è stata comunicata in un momento di espansione, perlomeno professionale, della ragazza. Il legame con la madre è molto forte. Il padre invece viene descritto come un uomo da sempre infantile e irresponsabile, che ogni tanto, quando si sentiva stretto, c'era qualche difficoltà, sprenda e poi tornava come se nulla fosse accaduto. Un uomo che cadeva la moglie, da cui era in un avvento rivolta a riacconto. Un uomo con il punto del corpo da bodybuilder, che Carlotta ha in parte avvenuto. Un padre che non le starà vicino, neppure, forse dovremmo dire a maggior ragione, in un momento così difficile come questo, e così definitivo. Un padre che è Carlotta ama e odia, che cercherà in questi mesi continuamente di ricontattare e poi continuamente restringere. in una sorta di variazza affettiva. Carlotta è una ragazza molto combattiva, ha molti progetti per il futuro. Alcuni forse non proprio realistici in questo momento, come vendere tutto, dopo appena un anno che aveva in realtà il costo di diritto, e qualche cosa, vendere tutto all'ora è nostro. Si presenta sempre l'ottimità, l'amore di vita, e questo al termine di ogni nostro incontro mi lascia sempre la sensazione amara che si rifiuti di mettere in conto quello che sta accadendo, quello che potrebbe, come una grande percentuale possibilità, che potrebbe ritenere. Si muove sempre sul registro di quello che i musici altri direbbero dopo mani a calità, quindi sempre molto sui giri, e si muove sempre su toli positivi, alti, del tutto bene, di tutti i costi, è tutto positivo, tutto questo sempre a ottenanza. E la sua mente è ovvio, stava interminando dei meccanismi difensivi rispetto a questa esperienza, che sono però compatibili con lo sciocco che la diagnosi ha avuto subito. io penso che mentre vedi lutto per una persona cara, vi era la perdita di una coppia, di tutto che era una coppia, in cui c'era anche una ventura, nel lutto per la perdita della propria vita, c'è la perdita di tutto, non di tutto, ma di tutto. E quindi quello che si trova a vedere a affrontare Carlotta, un po', potremmo dire, il distruggimento, il non riuscire, da parte di Dio, a immaginarsi se stesso oltre la morte. Tra le difese che Carlotta mi ha finito avuto, ovviamente è possibile riconoscere facilmente la rinunzione, l'uscizione. Carlotta porta molti esibiti, molti esami, le legge, le parla, fa visite su visite, ma me ne parla con un atteggiamento molto razionale e sembra che non voglia lasciare spazio a far emergere una disperazione, un dolore che sicuramente dietro a questa situazione si sta muovendo in mente. Solo la rabbia comincia a farsi spazio. È una rabbia da prima rivolta verso l'unico esterno ed è una rabbia che ricade sul suo mondo di amicizie e di relazioni. Lei si arrabbia molto con le amiche perché non la va a trovare, perché non la contattano e perché non la cercano. Ma quando lei si incontra con le amiche lei è aggressiva ed è molto sbagliante. Dice che gli altri non sono veri, che non sono autentici, che vengono tutti e non le vogliono veramente bene. Lei ha capito che è sola e che nessuno ne ha mai venuto veramente bene tra la sua amica. In questa dinamica delle amiche arrivano in quanto dei messaggeri, qualcuna prova ad avvicinare, ma lei ogni volta è in grado di trovare una critica, un aspetto che non va in questi tentativi di vicinanza. lei dice che gli altri li stanno abbandonando, nessuno è vero e autentico con me, tutti figono. Vorrà dire che così seleziona le amicizie. Poi si mette a piangere e dice di non avere più amici. E' pur vero che spesso di fronte a una malattia terminale c'è una paralisa, una sorta di paralisa collettiva e comunicativa. C'è una forzata ricerca e argomenti inenti, senza particolari significati e valori. Tutti recitano una sorta di commedia sapendo di recitarla e motivandola con il desiderio di non ferire la persona. Mi raffiguro quindi il mio ascolto di Carliotta, che di fronte a Carliotta non riesce ad avere un'immagine di sesso sprente, ma al contrario un'immagine eforica. Gli altri possono arrivare ancora più paralizzati e quindi bloccati in questa recita in cui ognuno fa il gioco delle parti. Questa situazione viene vissuta da Carliotta come un abbandono da parte degli amici, non accorgendosi che la prima a non riuscire ad essere autentica è proprio lei e in fondo, semmai, è lei che l'abbia di me. Di fronte a una persona che per aggravarsi della sua malattia sta concludendo la sua vita è comprensibile che stia sperimentando la pena profonda dell'inversione in qualche modo separare da tutto e da tutto ciò che ama. Esperimenta l'angoscia che vede la verità permetta della progettualità, del ruolo sociale, del ruolo familiare, dell'intervista fisica, di tutto ciò che fa parte della propria identità. dallo shock al rifiuto, al parteggiamento, alla lotta, alla depressione fino, si spera, all'accettazione. Ma queste fasi non si alternano sempre nello stesso modo in maniera uniforme. Ogni soggetto, ogni storia è a sé ed è sempre non prevedibile. È vero che anche per la fase terminale sono stati vari passaggi conseguenziali che hanno indotto. Però, come dicevo, il processo è molto individuale in alcuni casi, come quello di Carlotta. Prevagono atteggiamenti adattivi, non adattivi, ma distruttivi. carichi di argomenti, di disperazione, di rivedioni che non consentono di utilizzare le proprie risorse e quelle dell'ambiente. Quindi, i familiari, i familiari. Rosa mi comunica che non vuole fare le terapie proposte, che pensa che servono solo per la sperimentazione da parte dei medici in accordo con le case che fanno certo. E si attiva una ricerca ossessiva in cui è legata alla alimentazione naturale. mi ritrovo a pensare quanto sia distante la possibilità di curarsi di una buona alimentazione rispetto al drama che sta vivendo. C'è una specie di scollamento, no, rispetto a queste due percezioni. tuttavia, nel mondo interno delle immagini e dei simboli, nel mondo interno del mito di cui parlavo prima, il tentativo di cura attraverso la alimentazione potrebbe essere visto come immagine o simbolo di un ritorno di un ritorno. A quel nutrimento buono di cura, a quel nutrimento buono attraverso il quale la madre si era presa cura della figlia. Una madre impotente, ovviamente, come lo è sempre per i mati o per i bambini, ma una madre che salva, un nutrimento salvifico diventa il cibo naturale perché appartiene a madre natura e quindi a una madre in questo caso per Carlotta che salva. Quindi, in qualche modo si sta muovendo dentro Carlotta la ricerca di una cura che è anche un ritorno, un ritorno materno, un ritorno alla nascita. Cerco di far avvicinare Carlotta a queste immagini grazie anche al suo inconscio che ha prodotto solo pochi suoni, pochissimi suoni in questi cibi per sei mesi. Questo ci dice qualcosa sul fatto che per Carlotta fosse molto difficile accedere a questa dimissione. Dicevo pochissimi suoni, ma quasi tutti legati al cibo, alla pavola e ad un nutrimento. Un nutrimento anche inteso in senso anche più. Tra mesi di suoni. Mi trovavo in un luogo sconosciuto. Sembrava un valorevo, una grande corra. c'erano grandi finestre. Si organizzava una festa, una cena, ma era sera. Era tutto bianco, tanti degli bianchi, ma io ero sola. Ero in viaggio, questo non è che fa un punto. Doveva essere cerchi il mio extra gaso, ma non c'era. Ero deluso. Mi sentivo sola. Poi mi ritrovo in una scuola per preparare il pranzo per tutti. Ma lui non è arrivato. l'ultimo momento. È arrivata la nonna. La nonna era deceduta un anno prima. È arrivata la nonna. Con lei c'era sempre un senso di famiglia. La cena era pronta. C'era anche il zio che era in capa famiglia. La sua resistenza anche nei confronti di una possibile elaborazione di queste immagini che erano sue immagini, immagini che nascevano da lei. Ecco, la sua resistenza all'imposizione ad ogni mio tentativo di accompagnarla verso una nuova consapevolezza. Mi ricordano che lei mi ha chiesto, la sua richiesta di terapia è stata quella di combattere con lei. Ora, la parola combattere con etimologia significa dal mattino combattere significa combattere insieme. Quindi la richiesta che lei mi ha fatto era quella di combattere con malattia insieme. Contrastare quindi opporsi. Portare avanti un percorso contro la malattia. Il tempo della resa mi sembrava ancora improfondibile. la sua mente sta combattendo ma non solo contro la malattia quanto contro una maggiore presa di coscienza e a favore invece di quel mentalismo psichico che la mantengono in una situazione di stagione. Ho accertato di fare un ciclo di pieno ma poi basta. quando vado in oncologia e vedo e sento tutta quella gente che si confronta sulle terapie e gli stagioni del problema di malattia e gli effetti con la ruota mi sembra di essere allargato non voglio diventare come loro mi viene una gran rabbia e non ci voglio stare arrivo tutta toccata e ben vestita e faccio la mia fedio come se andasse ad un apportamento di lavoro lottana dagli altri appartato lo tempo a questa malattia fino a giugno dottoressa dopodiché basta dopo deve rendere Carlotta prova a recuperare un po' di controllo sulla sua vita con tratta sui cicli della chemia e sfida la malattia dandole dei limiti di tempo così come sfida il suo corpo costringendo è un'antichità fisica che vuole riprendere a tutti i costi ci sono giorni buoni in cui prova a correre e viene seduta chiedendo di confermi sul suo corpo ancora di fuori ancora bello l'attenzione quasi ossessiva in una ruota del corpo nella sua dimensione estetica uno dei pochi lasci di poterli e vive la ma un'opponente narcisistica per la quale è vissuta come profanazione della canzone e l'altra perfezione fisica e così anche la morte sono percepite come una ferita insopportabile intanto mi interrogo meno Carlotta si interrogava più io ero sollecitata a interrogare come vivere mi gira questa domanda come vive il luto di qualcosa che ancora c'è distaccarsi da una vita che non è ancora finita da un corpo che ancora la testimonia per Carlotta ci sono ancora giorni buoni in cui cresce la speranza e l'illusione differenti sono i volti in cui si presenta la morte una morte sfidata come per Carlotta una morte combattuta dopo una vita incompiuta una morte accettata dopo una vita vissuta come completa una morte venuta per una vita troppo sottoperta penso che il problema di una morte prematura cioè in giovani fa sia legato al fatto che per un mio coscienza che sta cercando come sempre accade nella prima fase della vita di stabilizzare la sua identità e ha il compito di rinforzare i suoi confini e la sua esistenza la necessità di rinforzare i suoi confini e la sua esistenza ecco per una coscienza nella prima di fare la sua vita sia difficile venire ai fatti con questa esperienza di più io si difende estremamente con tutte le sue forze di fronte a quello che percepisce come un furto un enorme illegittimo più potente e senza tutto dei progetti delle fantasie delle speranze di tutto ciò che appartiene a progettarsi nella vita cioè a progettarsi in avanti nel futuro il futuro si interrompe bruscamente e la strada si arresta di fronte a una tale perdita si profila anche il fantasma dell'ingiustizia più volte la gloria esprime la sua rabbia sul perché si è succedendo a lei perché proprio a lei c'è un testo che Jung ha scritto risposto a Giobbe in cui questo tema di che giustizia è molto è trattato con molta intensità Giobbe a un certo punto riceve una risposta da Dio una risposta molto drammatica ma forse l'unica possibile non puoi sapere perché a te è stato destinato questo gli eventi dolorosi che riesci a dire non si possono scegliere ci colpiscono senza alcuna ragione che il nostro indietro possa comprendere e ci fanno avrecare in una condizione di indipendenza senza più controllo sulla nostra vita e su chi siamo e questo è un punto in cui bisognerà sostenere se stessi appena la fine e fondare il proprio comportamento solo sulla propria etica fare appello solo sulla propria esistenza Carlozza comincia a saltare le sedute un po' perché la chemioterapia la rende stanca e spossata ma anche quando sta meglio rimanda o allende il ritmo delle sedute collo insieme a questo movimento esterno e un altro movimento più interno di ritiro di se stessa la rabbia si è allontata per lasciare il posto ad una sfumatura depressiva me lo comunica così ho deciso di prendermi una pausa vorrei recuperare un po' di energie ma poi poi torno dottoressa quando sarò meglio e in effetti lascia una porta aperta non mi paga le ultime due sedute e lascia così un legame tra me e non vuole chiudere definitivamente io penso che ha smesso di condottere dopo qualche mese la madre mi avvertirà nella morte di Carlotta mi sono chiesta se l'interruzione della terapia fosse stato un fallimento terapeutico ma crede che questa validazione mi applichi il giudizio basato sui criteri generali non valide per tutti si fallisce rispetto dell'aspettativa rispetto all'aspettativa che un individuo di fronte alla morte segua tutte le fasi canoniche fino attraversando anche la rabbia ma fino ad arrivare all'accelerazione tutto invece il percorso sempre il percorso della vita di ognuno ma in particolare quando siamo di fronte all'esperienza così mi viene da dire così in Italia come la morte la nostra morte non la morte in generale ogni percorso sia a sé ed ogni percorso vada rispettato nelle sue cose e lo si possa accompagnare là dove lui vuole andare quindi io lasciavo andare la messa da parte dell'attesa che io come c'era aperta sapessi cosa si doveva fare non accanimento terapeutico potrebbe essere leggibile come un aspetto sintonico alla necessità delle pazienti di cominciare a lasciare un'ora di cominciare a lasciare un resto attaccamento verso la vita la fine della nostra relazione potrebbe allora aver avuto per carlotta il significato più profondo della nostra situazione che è quello di cominciare a lasciare la sua vita non so se è questo ma mi piace pensare così pensando a me vi ringrazio di cominciare a me che potesse si vencino molto legati ma riesce a dare una dimensione veramente profonda assolutamente autentica di cominciare a me Grazie a tutti